Sono Alberto, ho 40 anni, vivo a Salerno, anzi a San Mango, da 5 anni. Sono sposato da 14 anni con Sonia. E mi sono sentito come un adolescente che scropole tutti i piaceri della vita, la bellezza del sorriso di mio figlio, l'amore di mia moglie che nonostante tutto mi è rimasto vicino. Ho due bimbi, due meravigliosi bimbi, Sara che ha 10 anni, Sara è l'avvocato di famiglia perché c'ha sempre da ridire su tutto. Perché devi fare? Devo fare la struttura. E come la faccio? No, ma devo prendere il pellello. No, prima devi fare un composto tutto insieme. Non si mette pure i pezzi di carta dentro la colla vinilica, Giuseppe. E poi c'è Giuseppe, Giuseppone. Giuseppone a capa tosta. Perché è molto fermo nelle sue decisioni, nelle sue cose. e se non stai facendo tutta marrona, può dovevamo fare? Ma che... L'uomo l'hai detto. Amazarci! Amtarci! Però non tutta marrona. Ma è un po' particolare, eh. Un po' particolare questa come? C'è un'oriccia marrone e un'orice bianta. Gestisco insieme a mio fratello una tabaccheria. Buonasera la maggior parte della giornata l'unica cosa positiva del mio lavoro è che sto adesso a contatto con la gente quindi è bello adesso pure colloquiare con i clienti è bello mi divido tra lavoro e famiglia ma molto del mio tempo lo dedico a chi in passato ha aiutato me nel club non dobbiamo dimenticarci che prima di tutto è per sì, sia per chi è che ha il problema dell'alcol però è per tutta la famiglia sono un po' emozionato Gavia è una storia di cambiamento e voglio raccontarla perché è una storia lieto fine io ce l'ho fatta e spero che raccontando la mia storia molte persone possono prendere forza da questa storia per cambiare anche loro perché cambiare si può cambiare basta volerla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti